Convegno, tre nastri, non corresi in miedo, aveva il 9, rimangono in 15, corsa che vede Stephen de Ronco, uno dei più gettonati, ma anche molto seguito, Ossigeno Bigi e davanti Sogna Doranz, questi sono i cavalli più gettonati, c'è anche l'Oeira S che è molto seguito. Abbiamo assistito prima a un altro Espluadi, un tre anni, made in Napoli e grazie sempre alla fucina dei Minopoli, ma anche quello di D'Alessandro, veramente, niente male, già lo conoscevamo, dopo Parigi, due corsi a Napoli, uno superiore all'altro. Cavalli in pista grande, Sogna Doranz, con l'ottima partenza non ha problemi per andare al comando all'attacco della piegata, parte bene Sektor che si sistema a secondo, il 15 subito a tabellone, era Timbuket B, anche il 5 finisce a tabellone, Sonic 1. Lancio in 15 e 6 e Sektor si affaccia per anticipare gli avversari, è partito bene Ramada, punta in avanti Sektor e anticipa Patriot Gar, 400 se ne vanno in 37 e passato Sektor ora probabilmente darà via Patriot perché è un cavallo di passo e anche costante nella sua andatura. Anche il 12 tra gli strali della giuria, 45 e un battito e 600, 15, 5 e 12 a tabellone, cavalli a completamento anche di questa piegata si presentano davanti alle tribune e completano il mezzo miglio iniziale. Il targato Gar lo passa in 1, 1 e 2. Patriot, Sektor, Sogna Dor, viene via il 7 di Tolstoi del Nord, pedinato da Steven Del Ronco. I due puntano in avanti ma sono anticipati da ossigeno, primo chilometro su mio in 16 e 8 e cavalli che affrontano la piegata. L'andatura è sempre brillante con Patriot gara al comando. Mezzo miglio alla conclusione, leggiamo un po' questa frazione in 15 e 9 e ora si va di fronte con Steven in punta che punta in avanti. Di dentro è l'ORS, Steven va deciso sul duo di testa, 500 giù di lì alla meta, Tolstoi ha le prese con Patriot, ma è Steven quello più incisivo. Il targato Ronco sta già passando, miglio che se ne va in 2, 1 e mezzo. Ma viene via la grande l'ORS, l'ORS servito a dovere, va su Steven Del Ronco, è incisivo l'allievo di Antonio Di Nardo, passa l'ORS su Steven Del Ronco, viene via ossigeno, ossigeno va a cazza di l'ORS. Vantaggi di l'ORS, si avvicina ossigeno, ma non può più di tanto perché si mette un po' brutto di camminata e manini dolci, è fantastico a tenerlo di trotto. Vittoria personale di Antonio Di Nardo, io 2,31 sul mio cronometro, leggo 1,15 e mezzo da tarare che dava 20 metri, bella vittoria di l'ORS su ossigeno e Steven Del Ronco. Andiamo a leggere la quota, 8,46, Di Nardo, Antonio, D'Alessandro, Vincenzo, Minopoli, Mario, Junior, così è l'attrice. Pace e bene.